Le sponsorizzazioni in favore della Heraclea Volley con pagina locale che militò nel campionato di pallavolo in Serie B1 servirono ad alimentare irregorietà fiscali. Il giudice Evani Castro a conclusione del lungo dibattimento è messo quattro condanne, tutte con la sospensione condizionale. L'entità delle pene è stata rivista a ribasso rispetto alle richieste dell'accusa rappresentata dal PM Gesualda Perspicace. Due anni di reclusione sono stati imposti ad uno degli allora vertici della società sportiva Mario Invincibile. Nei suoi confronti la richiesta della procura era di quattro anni e è stato ritenuto responsabile con il riconoscimento della continuazione per irregolarità negli anni di imposta dal 2012 fino al 2014. Un anno e nove mesi invece a Salvatrice Caffo, sempre con la continuazione, la richiesta del PM era di tre anni e sei mesi. Un anno e sette mesi è la pena pronunciata per Salvatore Smecca nei cui confronti il PM aveva concluso per un anno e due mesi. Infine un anno e sei mesi a massimo d'andare per il quale la richiesta iniziale era di due anni e otto mesi per tutti gli imputati. Come ha ricordato nella requisitoria del PM il periodo di riferimento arrivava fino al 2014 quando vennero finalizzati i controlli su quello che fu individuato come un sistema fraudolento quasi del tutto concentrato su sponsorizzazioni che gli inquirenti ritennero fittizie. Secondo l'accusa le operazioni sarebbero state solo un escamotage per ottenere vantaggi fiscali. Fu ricostruita una sproporzione enorme rispetto da altre società che erano iscritte allo stesso campionato. A non convincere furono i costanti prelievi incontanti che i vertici della società effettuavano subito dopo aver incassato le somme degli sponsor. Altri capi di accusa sono invece risultati prescritti. Il giudice nel dispositivo letto in aula ha richiamato la confisca diretta di somme nei conti corrente degli imputati o di beni immobili o altre disponibilità per un valore pari a quello delle imposte vase. Gli imputati sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Antonio Gagliano, Rosario Prudenti e Tommaso Ovespo. I difensori nelle loro conclusioni hanno invece sostenuto che le sponsorizzazioni furono concrete e non finalizzate a deludere gli obblighi. A seguito dell'inchiesta sui bilanci della compagine di volley sono già definitive altre due condanne. Lo scorso anno infatti la Cassazione si pronunciò respingendo i ricorsi delle difese dell'imprenditore Maurizio Melfa della MEIC e di una dipendente del gruppo Veronica Acauchi sono stati condannati rispettivamente ad un anno e due mesi e ad un anno. Scelsero il giudizio abbreviato.